Ragazzi, è finita! È finita, capito? È finita! Sono finiti anche questi mondiali adesso, che cosa ci rimarrà in mente? Tipo, a me resta in mente un sacco di roba, tipo il gol di Severovic al 93esimo contro l'Equador e la svissera che passa agli ottavi, il morso di quel cannibale di Suarez a Chiellini lì che quasi sta cantando in spalla, i sogni di Ceroni che sognava le cose e faceva le previsioni che è meglio lui del polpo pol e poi c'erano i sette gol, non i sette nani, i sette gol della Germania al Brasile la disfatta della Spagna che è stata regina del mondo degli ultimi anni e poi la Germania che finalmente dopo che stai a ciulà da una montagna e mezza di Vols finalmente vince e arriva alla fine di un mondiale, tutto questo mi rimarrà in mente soprattutto mi rimarrà in mente questi selfie che ho fatto che ci hanno fatto percorrere i mondiali tutti assieme vi mancherete, vi amo, I love you, I love you, vi amo, ciao come era Anton Giulio, credibile? un po' così, sforzoso forse vabbè a te un po' così, sforzoso percorrere i mondiali un po' così, sforzoso percorrere i mondiali